Due giorni di allenamento dopo l'ultima sfida di campionato e la Calzedonia sarà nuovamente impegnata sul campo in Coppa Italia contro Perugia. Sì, diciamo che dopo un buonissimo giorno di andata ci siamo conquistati questo quarto di finale, una partita secca, giochiamo sicuramente contro una squadra decisamente in forma, forte, però come tutte le sfide secche hanno una storia un po' particolare, amo dire, ma questa era una considerazione che facevo di quando ero giocatore, quanto queste partite siano belle proprio da vivere, ma al fine in fondo, perché noi giochiamo, le partite di campionato per certi aspetti sono routine, ma queste partite qui invece hanno proprio una loro storia, vivono da sole, hanno un carico di tensione, di agonismo straordinarie, per cui già solo giocarle è veramente emozionante e manca ancora un giorno a questa sfida, però è stata sudata, sofferta a conquistarla, per cui quello che chiederò ai miei giocatori è quello di giocarla e viverla a pieno. Quanto sarà difficile scendere in campo dopo la sconfitta di domenica? Ma sai, ripeto, siamo una squadra che lavora, che lavora a sodo, per cui conosciamo i meriti e demeriti della nostra squadra, i punti di forza, i punti deboli, sappiamo perché abbiamo perso e sappiamo anche che bastano poche ore per cambiare, non dobbiamo fare cose straordinarie per stravolgere il nostro gioco, dobbiamo migliorare alcune situazioni, ci sono secondo me anche delle prese di coscienza diverse da parte dei giocatori, per cui è una partita che si parte da 0-0, quindi dove tanta differenza sicuramente sarà fatta dalla qualità tecnica dei giocatori, però anche dal tipo di agonismo che mettiamo in campo. Qual è l'obiettivo in questa partita contro un avversario come Perugia? Ma giocare, giocare dal primo punto, essere se stessi, poi i valori in campo secondo me verranno fuori proprio da, se una squadra e un giocatore sarà capace di mettere tutto quello che ha a disposizione e sul piatto delle bilanze per la propria squadra. La partita di macerata contro Piacenza insegna che queste sfide qui insomma si parte tutti dallo 0-0 e chi approccia meglio, chi ha più tranquillità nel giocare in genere gioca meglio e vince la partita.